In esclusiva Music Zoo, i Jam Boy! Ma questo è capitato a te, quando sei venuta a casa mia, immediatamente sei corsa via, pensavo fosse la vescica, sei entrata e non uscivi mai, domandandomi perché. Giulia! Giulia apri per favore! Tutto bene lì dentro? Perché non rispondi? Insomma, parlami di qualcosa! Appoggio l'orecchio e scopro che ti gregni i denti cercando di sforzarti, chissà cosa deve uscire, sembra che stai partorendo, ma i lamenti vengono interrumpiti dalle tue perturbazioni. Ma quanti volti che fai te avrò sentito la tua sinfonia? Ma senti a chitarra, senti a chitarra! Questo pezzo è un cocktail di fragranze provenienti da mondi distantissimi! Da dove? Da mondi distant... Gatto! Gatto Silvestri, stavi parlando di mondi? Mondi distantissimi fra loro, la selva boema, lo spazio interplanetario, l'intestino denue! Praticamente... Una cagata, questo pezzo è una cagata! Mi manca il fiato quando vedo che, ma questo l'hai cagato te, sembra quella di un cavallo sai, posso chiamarti furia, il tuo corpo è così gracile, non poteva star lì dentro dai, immenso come una furia! Tiro l'acqua ma non scende mai, tanto non ci credo sai, che l'hai cagato solo te! Sono molto meglio che le suonerie, che è un gruppo che non mi piace, che trovi ovunque e poi anche se le vuoi scaricare, questo è un casino, mentre ti bastioni e ce li hai sempre! Giulia